Musica Hey tu, ciao, vuoi giochi scontentissimi? Bene, ho un sito dato per te Vai su www.g2a.com e avrai giochi scontentissimi Ciao ragazzi, qui sul mio canale, qui sul mio canale, qui sul mio canale, sono qua con un video, ovviamente io non so più cosa fare, infatti vi chiedo, cioè fare, sono già facendo tanti video, ma non so più cosa faccio la mia ragazza, qui c'è il mio canale, non si vede Stiamo facendo un video perché, vado a sapere se voi avete voglia di farmi domande, come Facco o QA, come si dice in inglese, non si dice bene E quindi fateci domande, risponderà anche ai miei ragazzi, risponderà le mie domande, quindi potete fare domande sia su di me, su tutto il mio canale, o il nostro canale se volete HFK Quindi, boh, quindi ragazzi, fateci domande, io spero che fate domande, visto che tanto scriverlo come commento o come domanda, nessuno mi caga, quindi devo fare un video come ha fatto FIFA Che ho scritto che volevo fare il torneo di FIFA, infatti tanti, posto qualcuno risponderà, chi lo sa, mi vuole uccidere E, boh ragazzi, vediamo al prossimo video, spero che fate tutte le domande, quindi rispondete domande E, boh ragazzi, quando dice già che Game 5, il prossimo video, con la mia ragazza Al prossimo video, bella, ciao Bella, ciao raga Ciao